ho notato che tu tutto parla di te terrorismo in tv tv my friend sto pensando un po' a te nelle le cose qui viete finchè non c'è cerco oltre a me mezzanotte sto giù giudicandomi aggiudicandomi il titolo direi direi spingere i pensieri come barconi di abbandonarli per strada e chiamarli barboni non c'è niente che io possa fare per farti restare qui questa mia astronave non è fatta per tornare indietro è questo il mio segreto vedi non c'è niente che tu possa fare per farmi restare qui questo tuo castello non è che il tuo modo di tacere davanti a tutto il male sto pensando a noi osi pranzi coi parenti lavo il mondo con il detersivo per i pavimenti e poi cena a cena coi tuoi occhi di cera mentre beviti a noi portami di nuovo in Africa in qualche zona asiatica la polvere e la paprika l'idea è che tutto va come l'aria da un momento all'altro varia come il panorama scorre fuori dall'utilitaria e la radio si è rotta di nuovo ora in macchina sento quel suono che fanno i pensieri quando litigano tra di loro e non c'è niente che io possa fare per farti restare qui questa mia astronave non è fatta per tornare indietro è questo il mio segreto vedi non c'è niente che tu possa fare per farmi restare qui questo tuo castello non è che il tuo modo di tacere davanti a tutto il male vedi non c'è niente che io possa fare per farti restare qui questa mia astronave non è fatta per tornare indietro è questo il mio segreto vedi non c'è niente che tu possa fare per farmi restare qui perché adesso so che c'è qualcosa che io posso fare davanti a tutto il male e la radio si è rotta di nuovo ora in macchina sento quel suono che fanno i pensieri quando litigano tra di loro oh 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 Grazie a tutti.